Pagai un editore per la pubblicazione di un mio libro. Ci demmo appuntamento a piazza San Giovanni, dove dovevo arrivare con una station wagon che camminava col culo per terra. Tanto era carica di libri. L'editore mi voleva consegnare tutte le copie del mio libro e si arrabbiò quando le rifiutai. Io allora gli dissi, ma dove me le metto? In camera da pranzo? Chi le deve vendere? Sei tu! Ma quell'editore era solo un tipografo. Commento. In realtà quell'autore non era stato truffato dall'editore, ma dalla sua ambizione di fare lo scrittore ad ogni costo. Grazie. 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 Grazie.